Ciao a tutti ragazzi, oggi andiamo a giocare a questo gioco della nonna e dobbiamo prenderlo in giro, dobbiamo fare gli scherzi Allora, dopo di questo video farò un altro video, forse domani Dove... Su Scream 2 Sì, questo lo sapevo Eh, ok Questi sono già due video che ho fatto in un giorno, cioè, strano, non vi sembra? Cioè, facendo così, ok Mettilo di sopra, così quando tocca il giornale, si... Si scassa le mani Addio Ok, fatto Eh? Vediamo Leggi, leggi un po' il giornale Poveretta Però mi dispiace un po' cosa per... La torta, che ci fa la torta? Ah Guarda come vale il mio personaggio E guarda come fa quella con le mani dopo che se l'ha rotta Bello, bello Solo che la memoria ce n'ho poco in questo telefono Quindi sto gioco Consuma una marea di memoria Non vi dico Infatti nei commenti Della descrizione del video L'ho scritto... No, descrizione Recensione Recensione Bene scalpette I cuscini Però la casa la tiene pulitissima Ok E infatti come faremo con questo Io qua ho la visuale Lei è quello che sta facendo Ah Comprare Use Bellissimo Lei non può uscire fuori Mi ricordo di questa cosa Perché ci ho giocato già Però Due volte ci ho giocato almeno Tre e due Che? Che? Ma Il libro Ma io che devo fare? Eh Che devo fare? Eh Cioè poi quando vedo lei che cammina Mi viene in porta Buongiorno Io posso pure uscire dalla finestra Ma Dove è andata? Ah in questo video sono di poche parole Bel Che cos'è? Un bagno Boh Sotto deve essere lei Mangia E come vedete come scappa Mamma che brutto Mamma Ancora nelle scale quella Ma viene Ma qua mi può prendere lei Ah si mi può prendere Da qua non mi può più prendere Quindi Ma Ma Eh Un altro uovo Dove li prendo in testa e uova? No Mi ha preso E perché non mi ha fatto andare indietro Vabbè Basta scherzi No No I scherzi certo io ne facciamo Però I scherzi tipo Che vengo Me ne vado Vengo Me ne vado Cioè Guarda qua abbiamo anche la Red Bull Noi Con la viola Red Bull viola che esiste La Red Bull viola Mangia Mangia il riso Ah Vediamo cosa dobbiamo fare Se mi sentite male Perché ho la Gingommenbok Dobbiamo fare Eh Cereali Con l'hat Eh Che dobbiamo fare noi Io non ho capito Ma può essere Dobbiamo fare Mettere Qualche altra cosa Ah Eccola là Stiamo là Stiamo Sì 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 Aspetta Aspetta Guarda che furbo Eh io sono più furbo Ah Si è aperto Google Vabbè Canta pure Il sale Addio Ecco qua Va bene il tuo bel latte Con i cereali Salato Dai E vai Cioè Ora Vediamo Yamme 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 Eh Mangia Mangia Yamme Yamme Un po' così se lo mangio Che schifo Ah poi è normale Uno che si vomita Vedi che il latte col sale Una volta Ho sbagliato E sale con lo zucchero Mi sono confuso Ho fatto Mi stavo per vomitare Ti giuro Fa schifo il latte col sale Dai Che cosa si guarda Vediamo Eh Non si vede cosa Vabbè Eeeh Poi che si deve fare ora Ah Posso Posso scegliere Eeeh Questo vorrei Posso scegliere tutto No Ora Questo fa sturdire Poveretta Eh Che cos'è Una stellina Ok Ah ma io che sto intendo A casa sua E lei sta ruota Cos'è E' finito No A me ha fatto quello Che devo fare Ah Vabbè Ciao Ah ma ci sono anche i minuti Quello che devo fare Ma se io non Ah non sono Forse Ah no Si sono i minuti Non so Ah ma che si deve fare Eh E che devo fare Ho un'idea Ho un'idea Proprio una bellissima idea E se la mettiamo qua E no Allora Ecco La mettiamo qua Ora viene Però Ah no Dobbiamo andare là dentro Quindi Si può saltare Ok No 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 Non voglio l'idea Ora Aiuto 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 No vabbè Ciao Aiuto Non la blocca Non ci credo Ma guarda come cammina Sì vabbè Ciao 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 Eh vabbè Ma chi è Eh No che big Che big Ma Ma l'energia Quella cosa La bibita Ci dobbiamo avere Ma vedi che è qua Ma vedi che è qua Lei Sta uscendo In cui sembra una professoressa Devo dire la verità La verità Ah Guarda che c'è qua La Red Bull Ok Non vado a commentarle No Devo dire Pam Addio Ma mi può prendere qua No Non mi può prendere Perché io sono fuori D'altro cancello No da Che schifo Che fatto io poi Mi scordo Ah Vatti Vatti Eh io posso saltare Magari potreste saltare No non posso Ovviamente Perché Ma chi è No Perché Anzi Tipo io faccio così C'è È falso Ok Entra Entra Ora che devo fare io Vabbè Abbasso pure un poco Perché Ma che devo fare io Non capito niente ancora Può essere che devo entrare da qua Ma io mi ricordo C'era qualche cosa Che si doveva entrare da qua Ho capito dove si trova Ah È vero che si poteva Entrare pure da qua Mmm Bello 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 Prendiamo Ciao Ma che fa Ok Ma chi è la sala delle torture Sì È la sala delle torture Sì È la sala delle torture Oh Mio dio Ma Puffa Uri La sala delle torture Ah No aspetta No perché parlo Mi piace come parlo Ma Ma Mmm Non ho capito perché Oh mio dio 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 Ma dai Chiudi Eh Ehi Gagnolino Mamma Aiuto Mamma mia Ho paurissimo No 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 Non devi cadere Perché Oh Ecco qua Mi ha chiuso anche la porta Guarda tu Ma Ma perché Non viene a prendermi Cioè Ah ma forse fuori Fuori Non può venire a prendermi Quindi ho capito benissimo Tanto non può Può venire Può venire Aiuto 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 Mamma mia Lo spavento Ma guarda come corre Fa paura Quando corre Mamma mia Lo spavento E dov'è Quella porta Va Comunque Non puoi Ma ancora Ma guarda Ti sei fatta Mezzo Mezzo a Roma Ti sei fatta per Cattiva Ma guarda Dovete vedere Come corre Ma E fa paura Quando corre Devo dire La verità E là dentro Che c'è Allora Ma non è che c'è Ah no No niente Ma guarda Vedete tutte le case La sua è la più grande Ma Qua Perché certo Guarda qua si vede Bella raffinata Bella Vabbè Non ho capito Come fa Questo gioco Perché non mi sta più Dicendo niente Sì vabbè Faccio qua Vediamo E che cosa Ah Capito Io TV Ho capito Se fosse la tv Eh no Eh Di sicuro È vicino Eh quindi Di sicuro Devo fare qualche cosa La tv Dov'è la tv Non mi ricordo più Qua Qua è Qua è Mamma Aiuto 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 Corriamo Come se non ci fossero Domani Ancora sta correndo Questa E facciamo No 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 Ma come è fatto Qua fuori Vabbè comunque Ragazzi Spero che vi sia piaciuto Scrivete nei commenti Se volete che gioco Un'altra volta A questo gioco E E Tanto ci gioco Lo stesso Non questo gioco Ah Come si chiama Scream 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 3 Poi 4 5 E il 6 Comunque Spero il video vi sia piaciuto Ho fatto tanto uno scherzo a questo E ci vediamo al nuovo prossimo video Domani Ciao Ciao Ciao